dal comunale Bucci un mister Coppia allenatore della Regnanese mister pareggio raggiunto in extremis della Regnanese però forse un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre ma guarda per come si era messa la partita a me mi accontenta solo perché portiamo a casa un punto però se devo analizzare la prestazione non mi accontenta perché secondo me meritavamo qualcosa di più però sai ognuno vede sempre dalla propria parte però oggettivamente io credo anche Sponda Bucinese credo che oggi sia innegabile abbiamo creato molte palle golle io credo che la Bucinese non abbia mai creato palle golle nitide come le abbiamo creati noi. Infatti la Regnanese ha creato molto questa partita ha messo spesso in difficoltà la retroguardia Bucinese sulle ripartenze basti pensare alle occasioni hanno avuto lava e paci e anche sulle palle inattive dal calcio piazzato con Bettini ha preso quasi tutte le palle di testa. Sì Riccardo è molto bravo su queste cose purtroppo oggi l'ha presa bene quando l'ha messa nella nostra porta però onestamente anche in fase offensiva l'ha preso tutto lui non è riuscito mai a rindirizzarle per pochissimo però dai ti ripeto io devo guardare la prestazione la prestazione i ragazzi l'hanno fatta certo esser venuti via qui con zero punti dopo questa prestazione ci sarebbe stato enorme rammarico. E adesso anche in vista del proseguo del campionato con questo gioco e questo atteggiamento ci sono le giuste premesse per uscire dalla zona play out? Io credo che noi ci dobbiamo solo appellare a magari ecco sul fatto che abbiamo una rosa un po' corta un po' stretta ecco dobbiamo essere fortunati soprattutto non in campo perché in campo bisogna procurarsi la fortuna ma ecco sul fatto infortuni bisognerebbe essere fortunati perché ad ora abbiamo un monte di problemi ecco quello che mi preoccupa è la situazione infortuni ecco perché siamo un po' corti. Come sana difensore della Lignanese al comunale di Bucini ti diamo subito com'è tornare a Bucini avversario? È una sensazione strana perché insomma trascorso due anni e mezzo qua con la promozione dell'anno scorso insomma insomma il sentimento forte perché insomma qui ho lasciato degli amici però e d'altra parte quest'anno ho trovato meno spazio sicché ho deciso per insomma provare a andare a giocare altrove e per ora insomma sta andando bene, è una nuova avventura e sta andando bene. Bella prestazione oggi tutto sommato per la Lignanese viene via da Bucini un punto importante. Sì punto importantissimo non tanto per il punto stesso ma per insomma fare stare diverse squadre anche in questa zona perché insomma nei giro di tre punti ci sono altre squadre e insomma bene sia per la prestazione che per risultato perché è un punto e da morale la continuità di risultati che è bene. Ne parlavamo prima anche con il tuo mister se questo è il gioco e se questo è l'atteggiamento mentale da Bucinese ci sono della Rignanese scusa ci sono tutti i presupposti per uscire dalle zone calde della classifica. A noi quasi tutte le domeniche l'atteggiamento è questo sicché anche se magari non arriva il risultato però la prestazione c'è e insomma questo è incoraggiante perché insomma fa pensare bene perché insomma la prestazione c'è sì che noi siamo fiduciosi per la salvezza. Con Nicola Cacciapuoti dal comunale di Bucine mister oggi è una partita molto importante per la Bucinese peccato per il pareggio in extremis della Rignanese. Ha ragione, era importantissima perché era uno scontro diretto e si sa che negli scontri diretti i punti valgono doppio. Siamo partiti un po' timorosi sia noi che loro. Loro poi fra l'altro hanno, era la terza partita, giocavano una settimana quindi nel primo tempo ci siamo un po' studiati, eravamo lenti, non riuscivamo a ripartire e lo 0 a 0 era il risultato più giusto. Sul tempo siamo partiti con un piglio diverso, abbiamo cercato ad alzare ritmi e lo si è visto, ci abbiamo provato, abbiamo trovato anche il gol con Mecocci, poi subito dopo c'è entrata come si dice la paura di vincere perché ci sono state due o tre situazioni mischie in aria che quelle sono proprio determinate dalla condizione mentale che abbiamo in questo momento. Siamo siamo riusciti a superare questa condizione, questo momento qui abbiamo ricominciato a giocare, poi sai loro purtroppo cosa facevano? Buttavano tutte queste palle in aria in una di queste Sacconi, la pesata di nuca, ha messo Bettoni davanti alla porta e lì ha fatto il pareggio. Poi comunque la partita era finita perché al livello mentale, al livello fisico avevamo spesso tutte e due quindi c'è stato poco più di occasioni. Ma cosa è mancata da Bucinese per portare in fondo il risultato? Ma secondo me è mancato un po' di tranquillità perché solo 1 a 0 la cosa che si è vista era la mancanza di tranquillità di poter gestire il risultato perché c'è stato 5-6 minuti subito dopo il gol che non riuscivamo a fare un'azione concreta e trovavamo difficoltà anche a buttare via la palla. Questo è sicuramente una condizione mentale dovuta un attimino al momento però prendiamo il positivo di questo pareggio, abbiamo smosso la classifica e guardiamo avanti, guardiamo a sabato prossimo, andremo a sesto, andiamo a giocarci un'altra partita importante e guardiamo di far punti lì. Il sabato per l'appunto c'è un'altra finale ora però tutte per la Bucinese sono finali, di qui è la fine del campionato? Assolutamente sì, tutte le domeniche noi la dobbiamo giocare come fosse una finale e fare tutti i punti che ci possono permettere di salvarsi il prima possibile. Prima ci riusciamo e prima siamo tranquilli, se no lotteremo.